amici del basket partenopeo bentornati ad in the paint speciale game napoli speciale game napoli 93 banco di sardegna dinamo 83 una napoli convincente una napoli tignosa rabbiosa quando necessario una napoli che gioca una palacanestro credibile questa è quella che viene fuori dal palabarbuto alla serata del palabarbuto piccoli piccolo appunto napoli aveva la possibilità di ribaltare il basket average quando ha toccato il più 23 in apertura di quarto periodo sull'81 a 58 dopodiché la tensione dei giocatori è un po' allentata facendo infuriare coach pancotto ma napoli non ha mai perso il controllo della gara anzi l'ha portata in porto davvero in maniera molto tranquilla come quasi mai era successo in questa stagione napoli che ritrova un re di vivo stewart il re di vivo the revenant ditelo chiamatelo come volete 22 punti 4 su 5 dalla lunga distanza una connessione mentale con la partita totalmente diversa stavolta pancotto lo fa uscire dalla panchina premiando dell'osto con il quintetto titolare dell'osto risponde presente 7 punti tanta energia difensiva un giocatore che è un giocatore di serie a cosa che nessuno quando era stato firmato avrebbe previsto si pensava che dell'osto fosse un decimo in una rotazione molto corta come quella era quella di buscaglia che era 8 9 giocatori invece dell'osto ha rimpagato la fiducia del proprio allenatore altri nomi da segnalare david mishino penalizzato dai falli comunque 12 punti in 16 minuti award 10 punti un young che gestisce quando mi scinò viene meno per il quinto fallo commesso gli ultimi due minuti senza alcun fatema per la geni un giacori williams da 16 punti e 10 rimbalzi altra doppia doppia per lui si parla tanto dei suoi liberi si parla tanto ma bisogna capire che un se un giocatore con quella presenza sotto canestro con quei movimenti sotto canestro avesse anche una percentuale importante di tiri liberi staremmo parlando di un giocatore che sarebbe giocando competizioni europee di alto livello un altro euro cap forse anche una bassa eurolega magari come backup del centro titolare bisogna capire che non puoi avere un centro del livello di brandon davis perché il centro del livello di brandon davis per fare un esempio va a giocare all'armani milano che punta a vincere l'eurolega nonostante non stia riuscendoci diciamola così è stata la partita in cui abbiamo scoperto che c'è un regolamento alternativo della palla canestro nel primo quarto l'arbitro martolini poteva prendere due decisioni una più favorevole a napoli una più favorevole a sassari che avevano fondamento regolamentare e prende l'unica che non aveva alcun fondamento jamal jones attacca elijah stewart dal palleggio arriva fino a canestro segna c'è il fischio chiamata fallo due sono le opzioni la prima che il fallo sia cominciato prima dell'azione di tiro napoli non era in bonus e quindi sarebbe stata una rimessa la seconda è che l'azione fosse di tiro e allora che fosse valido il canestro di jamal jones e che ci fosse un tiro libero supplementare per quanto potessero scontentare l'una o l'altra parte queste due interpretazioni avevano un fondamento regolamentare la scelta dell'arbitro martolini è di assegnare due liberi a sassari lascio a voi le considerazioni io sono in cerca personalmente del regolamento a cui abbia fatto riferimento l'arbitro che non ha avuto diciamo così una serata felice da ambo le parti speriamo che non debba incorrervi più oltre a questa curiosità che resta mera curiosità napoli ha delle ha un giocatore in più e questo serve anche in vista della trasferta durissima in quel di trieste trieste sta vivendo un ottimo momento napoli ha bisogno di vivere un ottimo momento ha bisogno di inanellare successi anche perché sembra incredibile tra la penultima posizione che vorrebbe dire serie a due e l'ottava posizione che vorrebbe dire playoff ci sono appena due punti vincere a trieste e presentarsi al successivo derby con scafati con fiducia e con la possibilità di vincerlo tra le mura di casa significherebbe rilanciarsi incredibilmente in classifica e cambiare le prospettive per quanto si dovrebbe sempre avere gli occhi dietro la nuca potrebbe cambiare totalmente una stagione che per lunghi tratti è stata possiamo dirlo deprimente perché questa gevi va dato un cinque generoso cinque perché la la dirigenza era stata la più cauta di tutti nel fare previsione ma cambiare quel cinque in un sette in un otto dipende dipende da un cambio di cipo una striscia positiva una striscia positiva che il calendario ti permetterebbe di fare perché le prossime tre partite prima della pausa per la coppa italia ancor più allungata per la finestra di febbraio delle nazionali dicono trieste fuori casa big big match per napoli match dire scontro diretto in cui deve vincere e ribaltare il basket average basta una vittoria di quattro punti e tre viso fuori casa intercalate dalla partita moscafati sono tre vittorie possibili per la caratura dell'avversario tre vittorie che cambierebbero sensibilmente la classifica di questa napoli in una lotta per non retrocedere che è diventato un calderone che include anche l'ottava posizione e chissà che non possa includere poco a poco anche chi è un pelo più in alto noi vi ringraziamo di averci seguito mvp della gara elijah stewart senza dubbio vi diamo appuntamento a venerdì con la preview di jamie napoli palla canestro 3s e noi ci vediamo sempre qui sempre sul parker in the paint ciao a tutti ciao